Il gozzo tiroideo è un aumento volumetrico della ghiandola tiroide, tendenzialmente totalmente casuale, dovuto a fondamentalmente una carenza di iodio nell'alimentazione. Colpisce prevalentemente le donne intorno alla quinta o sesta decada di vita e geograficamente è distribuito endemicamente in tutte quelle aree iodoprive, quindi quelle fondamentalmente dell'entroterra. Si pensa esista una linea familiare anche per la patologia gozzigena, soprattutto per la patologia gozzigena multinodulare o uninodulare, quindi in una linea familiare soprattutto in cui la madre è affetta da problematiche di tipo tiroideo, associata anche eventualmente alla residenza in un'area geografica iodopriva, è verosimile che anche nei figli si verifichi patologia gozzigena tiroidea. Il fattore di rischio principale per insorgenza di gozzo è una dieta priva di iodio. Gli ormoni tiroidei vengono sintetizzati organificando una molecola di iodio. Se questa è carente, il nostro organismo reagisce stimolando ulteriormente la produzione di ormoni tiroidei e anatomicamente modificando l'aspetto della tiroide e aumentando nel volume. I sintomi della patologia gozzigena appartengono a due grandi gruppi, quelli correlati all'iper o ipofunzionamento o al normale funzionamento della ghiandola tiroide e quelli correlati all'interno ingombro a livello del collo dovuto al gozzo stesso. I gozzi possono essere iperfunzionanti o ipofunzionanti, quindi avere poi tutto lo spettro di sintomi correlati all'ipertiroidismo o all'ipotiroidismo. La maggior parte dei gozzi in realtà sono eutiroidei, quindi la funzionalità tiroidea è conservata. Ciò che poi porta a chirurgia in realtà invece è la sintomatologia meccanica correlata al gozzo. Il collo è uno spazio virtuale, la tiroide è allocata nel collo con una dimensione ben precisa, un aumento volumetrico della tiroide causa un ingombro e una compressione delle strutture circostanti nella fattispecie la trachea, l'esofago e gli assi vascolari. Quindi i pazienti possono lamentare dispnea sotto sforzo o disfagia. In talunni casi il gozzo può svilupparsi anteriormente verso l'esterno e quindi essere visibile o posteriormente verso il mediastino e quindi non vedersi esteriormente. La diagnosi di gozzo avviene perché quasi sempre il paziente autopalpandosi il collo riscontra delle nodularità che possono essere mono o bilaterali. Si reca quindi dal curante o dall'endocrinologo che prescrivono un'ecografia tiroidea. All'ecografia tiroidea è possibile valutare l'aumento dimensionale della tiroide, la presenza di noduli o cisti e la distribuzione all'interno delle logge tiroidee dei due lobi aumentati di volume. La terapia del gozzo può essere di due tipi. O una terapia conservativa in cui la patologia gozzigena viene osservata nell'arco del tempo e monitorata attraverso esami ecografici, esami di funzionalità tiroidea, oppure può essere chirurgica. Chirurgica nel caso in cui sia presente sintomatologia compressiva ingravescente o sia presente per esempio sintomatologia da iperfunzionamento della tiroide non responsiva a terapia medica. In questi casi al paziente viene proposto l'intervento di tiroidectomia totale. Dopo la tiroidectomia totale il paziente affetto da gozzo ritorna a una vita completa al 100%. L'unica differenza rispetto alla vita di prima sarà non avere più un ingombro a livello del collo, una piccola cicatrice chirurgica e la necessità di assumere terapia ormonale sostitutiva per tutta la vita al mattino. Non esiste una vera e propria linea preventiva per l'insorgenza del gozzo multinodulare. Sicuramente l'assunzione di una dieta ricca in iodio e ricca in selenio e la stensione da abitudini voluttuari dannose quali l'abuso di alcol e il fumo di sigaretta predispongono sicuramente a un miglior controllo dell'insorgenza di patologia gozzigena e a una migliore prognosi in caso di intervento chirurgico. Visita il sito e iscriviti ai nostri canali. E tu, sei up?